Siamo a Barcellona E non siamo ancora arrivati Ciao Non c'è il tredicesimo I got, I got mustard I got, I got mustard And it's alright Matt Mantua Man this teman nè E da qua Pulsino 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 E' un po' di mani. Guardate, andiamo a vedere cosa fanno i piccioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!